buonasera a tutti vi do il benvenuto a questo webinar dal titolo smart lock controllo accessi questa sera andremo a vedere novità che urmet sta proponendo sul mercato mi presento io sono marco canova il manager della gamma controllo accessi di urmet e questa sera vediamo questa novità questa nuova gamma di prodotti dal nome slack che dà la possibilità di aprire il mondo a un nuovo business alcune note di servizio durante il webinar faremo un paio di fondaggi per rendere viva questa quest'ora che trasformeremo insieme e comunque voi avrete anche la possibilità di interagire direttamente come andando a vivere nella chat e ovviamente una volta scritto io leggerò e faremo la possibilità di rispondere insieme bene via ea disposizione anche la documentazione che potete tranquillamente scaricare durante tutto il periodo del webinar e quindi potrete poi andare a rivedere questi documenti bene oggi parliamo di controllo accessi e andiamo subito a fare il primo sondaggio il primo sondaggio è tra i vostri clienti è richiesta la possibilità di aprire la porta con smartphone e si molte volte soprattutto nelle strutture ricettive no non è mai stato chiesto ogni tanto ma non conosco delle soluzioni ecco diamo qualche minuto per rispondere dopo di che andremo a vedere il risultato diciamo che questa sera andremo a vedere questa novità che sicuramente è molto interessante molto versatile ecco questo punto possiamo dare il risultato del sondaggio e vediamo che ecco vediamo che il 50 per di voi a queste richieste soprattutto nel mondo ricettivo il 30 per cento non ha mai avuto queste richieste e il 20 ha la possibilità oggi di conoscere questa soluzione bene a questo punto partiamo con il nostro webinar e parliamo di smart smart access quindi parliamo ben di tutto della linea clac che cos'è sclac sclac è un sistema di controllo accessi che consente di aprire la porta utilizzando la trasmissione bluetooth dello smartphone quindi noi col nostro smartphone possiamo aprire la porta senza toccare nulla è una soluzione innovativa è una sicura una soluzione sicura perché comunque per poter accedere a questo servizio avremo abbiamo l'identificativo a due fattori è una tecnologia low energy perché usiamo il bluetooth 4.0 molto semplice perché possiamo trasformare la nostra qualsiasi soluzione di una soluzione smart contactless soprattutto in periodo di covid è meglio non toccare nulla quindi usiamo il nostro telefono per entrare nelle varie i vari locali flessibile perché ovviamente è una soluzione che si adatta a qualsiasi esigenza quindi possiamo utilizzarlo in un impianto esistente come integrazione vedremo come economica perché è proprio semplice non ha bisogno di un internet e questa è la cosa molto importante le soluzioni che ci sono sul mercato quasi tutti chiedono una connessione noi invece non abbiamo necessità di nessuna connessione internet quindi usi prendiamo dispositivo lo colleghiamo e automaticamente abbiamo il servizio e poi ovviamente versabile quindi come funziona il sistema il sistema funziona in questo modo lo scopo è quello di rendere le nostre chiavi meccaniche rendere queste chiavi in maniera virtuale e andando ad agire sul nostro telefono poter aprire la porta l'obiettivo è sostituiamo le chiavi meccaniche e abbiamo in chiavi digitali virtuali quindi noi abbiamo un server che dialogherà con il vostro telefono il quale via bluetooth andrà a dialogare con il modulo sclac unit il modulo sclac unit a livello macro possiamo definirlo come un relai con interfaccia bluetooth quindi questo dispositivo ha al suo interno un contatto pulito che permette di andare a comandare una porta un cancello automatico o qualsiasi altra cosa quindi questo è una soluzione veramente semplice e veloce chiaramente per poter digitalizzare le nostre chiavi cosa dobbiamo fare beh prima di tutto noi avremo la possibilità di aprire il nostro portone di casa o direttamente utilizzando un'app che si chiama sclac urmetsclac e quindi premere premendo un pulsante sul sul nostro display del telefono oppure possiamo avere addirittura una tastiera a codici e quindi realizzare con un codice precedentemente programmato ma ovviamente come vengono distribuite le chiavi le chiavi come già accennato vengono distribuite utilizzando un app quindi noi dall'app andremo ad inviare alle persone che saranno autorizzate ad accedere nella struttura degli inviti e questi inviti possono essere inviati via sms con whatsapp oppure email quindi con estrema semplicità se io devo andare ad abilitare signor rossi ad accedere una struttura compilerò all'interno dell'app andava a serie il numero di telefono del signor rossi e invierò questo invito e il mezzo di trasmissione dell'invito sceglierò in funzione di quello che mi più aggrada quindi sms whatsapp o email vedremo più avanti che esistono due tipi di chiavi digitali una chiave detta proprietario quindi classico classica chiave che si dà al proprietario dell'appartamento e poi abbiamo la chiave ospite che ha delle particolarità che vedremo a breve la filosofia importante la filosofia di sclac si basa su quattro profili ogni profilo ha una sua determinata caratteristica i quattro profili quali sono installatore quindi è quella persona che installa fisicamente il dispositivo quindi il pezzo hardware dopodiché abbiamo l'amministratore del dispositivo che è quella persona che gestisce in totos tutto il dispositivo quindi decide chi può accedere chi non può accedere e altre a diversi privilegi il proprietario invece è colui che effettivamente utilizza la chiave e potrà gestire i suoi accessi quindi sulla sua app troverà il famoso bottone premendo questo potrà accedere e poi abbiamo l'ospite che invece è quella persona che viene invitata dal proprietario e potrà soltanto usare la chiave quindi questi profili l'installatore installa dispositivo sclac nomina l'amministratore l'amministratore del dispositivo può essere lo stesso installatore oppure un'altra persona e ovviamente essendo l'installatore andrà a fare tutte quelle programmazioni settaggi relativi al buon comando della serratura elettrica del cancello automatico e quant'altro poi abbiamo l'amministratore l'amministratore che può essere sempre l'installatore questo è molto importante perché lo vedremo più avanti che cosa vuol dire cioè noi abbiamo per ogni dispositivo l'amministratore del dispositivo l'amministratore una volta nominato può definire i proprietari può invitare i propri ospiti esempio se l'amministratore del nostro dispositivo è un amministratore di condominio questo signore può invitare come suo ospite l'ideaulico il giardiniere o altre persone che ovviamente devono accedere alla struttura in modo temporaneo non permanente ovviamente l'amministratore può andare a rimuovere i privilegi quindi cosa vuol dire vuol dire che se noi siamo in un condominio e il signor Rossi cambia casa l'amministratore può rimuovere le credenziai di accesso al signor Rossi e quindi a questo punto il signor Rossi non potrà più accedere nella struttura dopodiché l'amministratore nomina il proprietario il proprietario oltre ad usare la propria chiave digitale può invitare i propri ospiti e i propri ospiti chi sono può essere il giardiniere può essere esempio il proprietario può essere un proprietario di un bed and breakfast che invita i suoi ospiti e quindi manda questo invito via telefono l'ospite riceverà questo invito e potrà poi accedere in maniera temporizzata nella struttura quindi gli ospiti possono essere un figlio poi sono accorso una un giardiniere o mai tentore chiunque debba entrare nella struttura in modo tempo temporaneo quindi installatore e amministratore abbiamo detto che possono essere le stesse persone quindi il nostro installatore può diventare l'amministratore del dispositivo e a questo punto è lui che andrà a invitare i vari proprietari chiaramente essendo l'amministratore avrà anche altri privilegi potrà andare a verificare il corretto funzionamento del dispositivo potrà rimuovere dei dei permessi a determinati proprietari oppure oppure ai propri ospiti il proprietario utilizzerà la propria chiave l'ospite invece usa esclusivamente la chiave tutto questo è fattibile utilizzando l'app urmetsklak quindi ogni ogni profilo presente nella struttura sclac dovrà utilizzare l'app urmetsklak la quale funziona sia in ambiente android con versione 4.3 o superiore oppure in versione di os 8 versione 8 oppure superiore bene da che cosa è composta la gamma in questo momento la gamma è composta da un prodotto principale che lo sclacchi unit 1086 barra 11 che lo possiamo definire come il nostro relais con interfaccia bluetooth e poi abbiamo l'accessorio una tastiera che wireless che lavora esclusivamente in presenza del sclacchi unit la quale dà la possibilità di aprire la porta digitando un codice e poi ovviamente l'app che è il cuore del sistema caratteristiche allora questo sclacchi unit è un dispositivo che al suo interno ha già un contatto pulito di conseguenza questo contatto può essere utilizzato per aprire una porta può per aprire un automatico oppure gestire altri servizi esempio attivare il condizionatore o quant'altro all'interno del dispositivo noi diamo già una licenza proprietario in modo tale che comunque il dispositivo possa essere immediatamente utilizzato da un proprietario o dall'amministratore stesso il dispositivo viene alimentato con una tensione che può variare da 12 a 50 volte in corrente continua oppure 12 24 in corrente alternata la caratteristica principale è che noi vogliamo integrare la soluzione sclacchi all'interno dei nostri sistemi videocitofonici quindi lo sclacchi unit in presenza di un impianto to voice viene direttamente alimentato dal bus e non necessita di un alimentatore supplementare questo un grande vantaggio perché perché noi possiamo andare in un impianto in un condominio dove c'è un impianto esistente to voice e proporre questa soluzione senza dover passare nessun cavo il dispositivo può essere installato in una scatola incasso una scatola appoggio parete oppure dietro la pulsante ovviamente avendo interfaccia bluetooth si consiglia sempre di mettere il dispositivo vicino al cancello osservatura da comandare invece la nostra tastiera invece è una tastiera wireless che funziona con batterie dialoga direttamente cross unit gestisce mille codici e può essere messa tranquillamente all'esterno perché angolo di protezione ip67 ecco importante che la tastiera non può funzionare da sola deve sempre funzionare con lo sclacchi unit bene vediamo un attimo la messa in funzione del nostro dispositivo quindi parliamo dell'installazione hardware abbiamo il nostro dispositivo sclacchi unit che viene fornito a sei fili di cablaggio in questo momento due fili servono per l'alimentazione altri due fili sono sul contatto elettrico poi il blu e il verde saranno per servizi supplementari un prossimo momento potremmo utilizzare questi due fili per indicare lo stato della porta aperta oppure chiusa il dispositivo al suo interno a quattro jumpers il primo permette di definire se il contatto del relais deve funzionare come normalmente aperto o normalmente chiuso quindi parliamo del jp1 il secondo jp2 permette di collegare un capo del contatto relais direttamente sul sulla massa del dispositivo quindi andiamo a risparmiare un filo nel collegamento mentre invece i più importanti sono i jp3 e jp4 perché identificano dove si va a installare il dispositivo di default i ponticelli sono inseriti e questo vuol dire che il dispositivo è predisposto per essere collegato direttamente sul bus del sistema to voice in caso in cui invece non dovessimo essere in presenza di un impianto videocitofonico e quindi dovessimo utilizzare il dispositivo di un impianto di un'altra azienda o per altre applicazioni dobbiamo spostare questi due ponticelli bisogna rimuovere questi due ponticelli e a questo punto il dispositivo può essere alimentato con un classico trasformatore 12 volte alternata o 12 volte in continua quindi piena versatilità e piena possibilità di scelta di modo tipico una volta che abbiamo gestito i ponticelli andiamo a fare ovviamente i vari cablaggi questa a sinistra e l'installazione con un alimentatore supplementare dove praticamente noi andiamo a rimuovere i ponticelli decidiamo se il contatto deve funzionare come normalmente aperto normalmente chiuso mentre invece nella parte destra dello schermo abbiamo l'installazione tipica sul to voice come vedete non abbiamo necessità di di aggiungere nessun filo perché tutti i collegamenti vengono fatti direttamente sulla pulsantiera inoltre è presente sul dispositivo un led che indica il lo stato di funzionamento del dispositivo quando il dispositivo è alimentato ma non è ancora stato attivato quindi non abbiamo ancora affatto dialogare il nostro dispositivo con il cloud sclac il dispositivo avrà il led avrà il led verde lampeggiante dopodiché diventerà il led verde fisso quando avremo associato il dispositivo alla piattaforma cloud e quindi in questo momento diventa operativo e a quel punto possiamo tranquillamente utilizzarlo inoltre abbiamo anche un feedback di ricezione del comando quindi tutte le volte che noi andiamo a comandare il dispositivo dal cellulare il led lampeggerà qualche secondo vuol dire che è stato ricepito il comando questo è l'installazione hardware quindi l'installazione hardware e con e con è finita cinque minuti vi siamo il nostro dispositivo una scatola in caso dietro la pulsantiera che sia andiamo a posizionare correttamente i nostri ponticelli e a questo punto diamo alimentazione ma dobbiamo attivare dispositivo perché al momento abbiamo terminato solo la l'installazione hardware per attivare il nostro scati unit abbiamo bisogno della dell'app urmet clac quindi dallo store di ios o android si scarica l'app e subito praticamente possiamo essere operativi ovviamente bisogna registrarsi quindi bisogna creare un account in parte di registrazione verrà chiesta la partita iva perché per noi scat unit e la linea scat che è una linea professionale quindi solo gli installatori possono installare questo dispositivo quindi fatte tutte le pratiche di registrazione ricordiamo che il dispositivo ha anche il tuffetto di authentification quindi la doppia conferma per entrare nel proprio account e questo è molto importante soprattutto per il proprietario di un appartamento perché così è sicuro che nessuno potrà accedere al proprio al suo account se non autorizzato quindi a questo punto una volta registrati che cosa facciamo all'interno della confezione del sclac unit troviamo un codice di attivazione a 12 cifre quindi andiamo a inserire questo codice di attivazione andiamo a questo punto a dare conferma inizia a un dialogo tra il dispositivo che abbiamo installato e il cloud clac utilizzando il nostro il telefono smartphone in uso a questo punto una volta completata identificazione il cliente può premere identifica che perché per esempio se noi abbiamo più sclacchi unit uno vicino all'altro abbiamo la possibilità di identificare quello che stiamo programmando una volta identificato identificato andiamo ad attivarlo in automatico il sistema inizia a elaborare i dati e si presenterà questa schermata e la prima azione che chiederà il lap è quella di fare un test sul dispositivo quindi si entrerà in questa sezione si andrà ad effettuare diversi settaggi in base alle proprie esigenze dopodiché si premerà il tasto test premendo il tasto test dovremmo vedere il nostro comando dovremmo sentire il contatto che si chiude quindi l'azionamento l'apertura della porta quello che è stato collegato se il test ha dato esito positivo andiamo nella configurazione quindi andiamo a geocalizzare il dispositivo andando inserire l'indirizzo il nome del dispositivo ingresso a ingresso di palazzina pippo pluto quello che sia andiamo a definire il tipo di comando che sta azionando quindi può essere un cancello elettrico una serranda può essere un una serratura elettrica una volta definito questo si dà procedi il secondo passaggio è l'aggiunta degli accessori oppure se non abbiamo accessori possiamo passare direttamente allo step 4 supponendo di avere l'accessorio quindi la nostra tastiera andiamo a premere il sul pulsante accessori premiamo sul pulsante più selezioniamo la tastiera e qui seguendo la procedura che passo dopo passo verrà indicata nell'app andiamo ad abbinare la tastiera al nostro dispositivo una volta che abbiamo abbinato questo siamo pronti per abbiamo completato l'installazione abbiamo fatto tutti i settaggi e siamo pronti a nominare l'amministratore del dispositivo l'amministratore del dispositivo chi può essere può essere lo stesso installatore perché l'installatore vuole gestire lui il dispositivo oppure può essere una persona terza in questo caso ad esempio l'amministratore del condominio allora in questo caso l'installatore dovrà invitare il questo amministratore del condominio ad abilitarsi sul dispositivo quindi andiamo a selezionare chi deve essere il nostro amministratore quindi se è un nome presente nella rubrica andiamo a selezionare una rubrica oppure può essere lo stesso installatore addirittura c'è la possibilità che l'installatore possa nominarsi sia come amministratore che come proprietario in caso in cui dovesse abitare nella struttura una volta fatto tutte queste operazioni andiamo a selezionare come dobbiamo inviare l'invito quindi al nostro amministratore chiaramente questo uscirà soltanto questo l'invio dell'invito ci sarà soltanto se non sarà l'installatore ad essere l'amministratore del dispositivo ma sarà un'altra persona quindi se dovesse essere un'altra persona si andrà a selezionare come inviare l'invito via email sms o utilizzando un link quindi l'applicazione di whatsapp e a questo punto si manda l'invito chi riceve l'invito che cosa vedrà vedrà un testo che può essere comunque un domani personalizzato e si ritroverà due link il primo link dove si richiede di scaricare l'app urmet sclac il secondo link invece abilita quindi dall'abilitazione a questo signore per utilizzare il dispositivo bene una volta che abbiamo definito l'amministratore dovremo andare a a definire i proprietari quindi prima domanda chi può invitare i proprietari i proprietari possono quindi inviare le licenze proprietari proprietario sono gli amministratori quindi l'amministratore del dispositivo quindi sempre dall'app il l'amministratore andrà a selezionare della propria rubrica oppure inserrà manualmente il il nome del proprietario e a questo punto premendo crea ed invia andando a settare tutti i vari passaggi non seguire tutti i passaggi si va sempre a mandare l'invito a questo proprietario la licenza proprietario che caratteristiche ha alla caratteristica che dà la possibilità a chi riceve questa licenza di poter aprire il portoncino di caso quello che sia in qualsiasi momento e soprattutto si ha la possibilità di accesso alla struttura per dieci anni dopodiché al decimo anno bisogna rinnovare questa licenza proprietaria l'amministratore prima di inviare il l'invito può anche decidere se dare subito l'abilitazione permanente di dieci anni al proprietario quindi in questo caso andrà a selezionare l'opzione pago paghi tu oppure se vuole far fare una prova un test al suo cliente e in questo caso dovrà selezionare prova chiave in questo caso cosa succede che chi riceverà questa chiave avrà tre mesi di tempo per provare la chiave e quindi usare la funzione dopodiché dovrà scegliere se aggiornare la licenza oppure dismettere il servizio poi abbiamo accennato che esiste un altro tipo di licenza un altro tipo di chiave che è la chiave ospite la chiave ospite può essere distribuita sia dall'amministratore del dispositivo che dal proprietario gli ospiti sono quelle persone che possono accedere alla struttura in maniera temporanea la licenza chiave ospite può funzionare in quattro modalità one shot ad esempio il postino di amazon deve consegnarmi un pacco io do l'invito a questo personaggio con la modalità one shot quindi il postino una volta che è entrato nello stabile per una volta sola automaticamente la chiave smette di funzionare permanente alla funzione come la chiave proprietario ma vedremo che usare una chiave ospite ha anche un altro vantaggio che log eventi quindi la possibilità da parte del proprietario di sapere quando l'ospite arriva nella struttura e questo è molto importante sia per chi gestisce un bed and breakfast ma anche ad esempio per una famiglia dove i genitori vogliono sapere se i figli sono gli presentati in casa ricorrente ad esempio nello stabile abbiamo la signora delle pulizie che ogni martedì e presenta pulire le scale allora possiamo dare questa chiave e fa sì che la signora tutti i martedì possa entrare nella struttura mentre negli altri giorni no temporanea invece la classica funzione del bed and breakfast quindi diamo una un determinato periodo per accedere alla struttura ad esempio dalla domenica dal venerdì alla domenica ovviamente in funzione di come io voglio gestire la mia licenza chiave sull'app si presenteranno diverse schermate per gestire il calendario le fasce orarie e quanta quindi possiamo dire che grazie alla chiave ospite possiamo gestire un bed and breakfast un self check in da remoto vediamo un attimo qualche schermata dell'app nell'app chiaramente vengono riportati i quattro profili ospite proprietario amministratore e installatore in funzione del profilo che si viene che viene selezionato si vedranno i relativi dispositivi ad esempio prendiamo questa schermata affermata ospite in questo caso c'è il dispositivo pippo dove questo questo cliente per dispositivo pippo è un ospite e io lo riconosco da questo pittogramma o vuol dire ospite teniamo invece nella del profilo proprietario anche qui andrò a vedere tutti i dispositivi dove io sarò il proprietario quindi sono posso accedere alla struttura e tutti questi dispositivi avranno l'iconcina p amministratore questa cosa in questo l'iconcina a mentre installatore avrà avrà la l'iconcina e come vedete ci sono dei dispositivi che hanno più iconcine ad esempio se prendiamo il profilo proprietario e dispositivo di via cima rosa per questo dispositivo io sono l'amministratore il proprietario e l'installatore quindi 8 ruoli attivi quindi posso gestire in totale libertà il mio dispositivo mentre invece per il dispositivo bridge io sono solo il proprietario quindi posso soltanto aprire la porta quindi queste iconcine sono importanti per capire che cosa si può fare per ogni singolo dispositivo vediamo qualche funzione una funzione molto importante e la funzione porta chiavi la funzione porta chiave permette di creare un gruppo di dispositivi e quindi il vantaggio qual è è quello di poter inviare con un solo invito l'abilitazione ad entrare su più su più porte più ingressi quindi nel mio nella mia porta chiavi posso mettere dispositivo a dispositivo b prendo il mio portachiavi e e mando l'invito del portachiavi al signor fluto il signor fluto automaticamente confermando accettando l'invito si troverà abilitato ad aprire la porta e la porta b poi abbiamo la possibilità di avere diversi visualizzazione possiamo vedere i nostri dispositivi che comandiamo in modalità lista come vediamo in questa schermata oppure in versione carousel in questo caso ogni dispositivo viene utilizzato con un pulsante grande il pulsante se si tinge di o di viola vuol dire che è abili alla possibilità di comandare il dispositivo quindi stiamo nel range del bluetooth diciamo che il bluetooth campo aperto siamo intorno a 10 metri di portata quindi nell'arco di 10 metri se il dispositivo il suo bottone diventa viola io posso aprire se invece il pulsante rimane bianco vuol dire che io non sono nel range di azione del dispositivo un'altra funzione è la funzione del qr code quindi la possibilità di accedere alla struttura invece che premendo il pulsante andando a scansionare il qr code che precedentemente dovrò aver messo vicino alla porta di ingresso quindi diverse modalità di apertura porta che ovviamente permettono un semplice utilizzo tra l'altro c'è la possibilità di avere anche i widget quindi in automatico abbiamo subito a portata di mano il nostro pulsante per aprire la porta vediamo un caso tipo supponiamo di avere un impianto un complesso edilizio formato da un cancello comune e due palazzine palazzina di via for villa e la palazzina di via cima rosa il nostro installatore fa l'installazione dei tre dispositivi quindi a livello hardware fare i suoi collegamenti dopo di che una volta terminati questi collegamenti dovrà andare a definire chi è l'amministratore supponiamo che in questo caso l'installatore si autonomi autonominandosi a questo punto che cosa fa dovrà invitare lui i proprietari e definire lui i proprietari quindi prima prima però di fare questo che cosa può fare può crearsi dei portachiavi si crea un portachiavi a che permette di avere una via e aprire la porta del cancello di via principale e il cancello di via for villa e il portachiavi b dove si dà la possibilità di aprire sempre cancello principale e il cancello di via cima rosa l'amministratore a questo punto ha creato due portachiavi e a seconda del proprietario manderà o il portachiavi a o il portachiavi b al proprietario quindi ad esempio per i signori rossi manderà il portachiavi a e automaticamente questi signori come riceveranno l'invito saranno abilitate ad aprire la porta di via bologna e di via for villa e sulla loro e sulla loro app ci sarà il simbolino p sui vari dispositivi mentre invece per la signora verdi manderemo l'invito col portachiavi b come anche per il signor bianchi dopodiché il signore ad esempio rossi possono invitare i propri i propri ospiti ad esempio decidono questi signori che la figlia vogliono definire come ospite perché avere l'ospite la figlia come ospite permette di sapere quando la figlia rientra casa e quindi una maggior sicurezza oppure se bisogna il postino deve consegnare un pacco si può dare la chiave ospite al nostro postino come vedete il dispositivo sclac a livello hardware è molto semplice perché il cambiaggio è molto banale però grazie all'app abbiamo la possibilità di gestire il nostro impianto come meglio vogliamo altre chicche della dell'app ad esempio la possibilità di interfacciarsi col portale rnb quindi questo permette a chi fa questo 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 quest'unione questa questa procedura di poter gestire in quasi in maniera automatica la prenotazione del proprio ospite quindi qual è il vantaggio e che l'ospite che prenota la struttura utilizzando la rnb avrà già precedentemente inserito tutti i suoi dati quindi quando confermerà la prenotazione il proprietario della rnb riceveranno notifica e si troverà già tutti i dati del dell'ospite a questo punto al proprietario non resta che inviare l'invito per la chiave ospite per far sì che questo signore possa possa entrare nella struttura chiaramente questo è molto importante soprattutto per chi gestisce un bed and breakfast o una rnb che sia perché in questo caso possiamo gestire le prenotazioni self check in da remoto non dobbiamo più essere presenti né all'arrivo dell'ospite perché l'ospite sarà autonomo e poi soprattutto per quanto riguarda il proprietario della rnb ha un enorme risparmio di tempo di mano d'opera migliora ovviamente il servizio della propria struttura quindi anche il ranking sul portale rnb aumenta e poi comunque lui è sempre in costante aggiornamento su cosa sta succedendo nella propria struttura perché quando arriverà l'ospite potrà avere un log quindi una notifica che l'ospite è arrivato e quindi può tranquillamente continuare a fare quello che stava facendo senza preoccuparsi di nulla esiste anche la possibilità di gestire le prenotazioni utilizzando un portale mais clac che che praticamente non è altro che la replica dell'app però chiaramente facendo tutto dal portale è molto più semplice perché abbiamo uno schermo grande perché possiamo gestire le cose in maniera più e più semplice tra l'altro utilizzando il portale abbiamo la possibilità oltre che interfacciarsi col portale rnb di poter interfacciarsi anche con altri portali challenge manager tipo 8 rate guesti wbuki e smubu eccetera eccetera quindi come vedete la sclac non è solo un relais che apre la porta ma è e la porta che di accesso a n soluzioni differenti e n possibilità bene vediamo a questo punto di tornare un attimo a parlare delle chiavi abbiamo detto che sclac gestisce due tipi di chiavi due tipi di licenze chiave la licenza chiave proprietario e la chiave ospite entrambe possono essere acquistate dall'app sclac e queste licenze sono legate all'account questo vuol dire che se io ho n dispositivi e ho ad esempio un pacchetto chiavi ospiti posso usare queste chiavi su qualsiasi dispositivo che a me interessa licenza chiave proprietario la licenza chiave proprietario è acquistabile singolarmente in app a validità dieci anni e permette di invitare ospiti allo scadere delle di questi dieci anni viene c'è una notifica e il cliente può automaticamente rinnovare la licenza proprietaria non permette di avere la notifica di accesso quindi cosa vuol dire che l'amministratore dell'istitutivo non avrà nessun log eventi legati alla chiave proprietario perché ovviamente è una questione di privacy ora prima di continuare vorrei lanciare il secondo secondo sondaggio possiamo dire per capire se abbiamo intrapreso bene il discorso quindi un caso pratico nel caso in cui venga venduto un appartamento quindi siamo in un condominio il signor rossi decide di vendere l'appartamento l'amministratore del dispositivo può recuperare la chiave del proprietario no il nuovo proprietario deve acquistare una nuova si l'amministratore può recuperare la chiave proprietario si il proprietario uscente deve fornire le credenziali ecco lasciamo un paio di risposte un po di tempo per rispondere in modo tale che comunque questo è un caso tipico che può succedere a tutti quindi la venda di un appartamento che cosa succede bene a questo punto diamo diamo praticamente il risultato quindi abbiamo il 45 per cento no il nuovo proprietario deve acquistare una nuova chiave oppure il 41 per cento l'opzione 2 si l'amministratore può recuperare la chiave e il 14 per cento rimasto si il proprietario uscente deve fornire le credenziali allora la risposta giusta è la seconda quindi sì l'amministratore può recuperare la chiave del proprietario e questo è molto importante perché se il signor rossi ha venduto l'appartamento non ha più il diritto di entrare nello stabile quindi l'amministratore può revocare immediatamente l'accesso al signor rossi e può dare questa chiave che ha recuperato al nuovo inquilino questo ovviamente permette una uno risparmio di economico perché comunque non siamo lì a dover fare copie delle chiavi e due soprattutto siamo sicuri che se non rossi una volta venduta lo stadio e venduta l'appartamento non potrà più accedere e soprattutto noi possiamo dare subito una chiave che abbiamo recuperato al nuovo inquilino chiavi licenze ospiti anche qua allora le queste chiavi sono acquistabili di app direttamente dall'app nell'app c'è uno store e si possono acquistare pacchetti da 5 10 20 100 che caratteristiche hanno queste questi pacchetti prima di tutto la possibilità di gestire una tipica eventi quindi ideale per chi vuole sapere se il proprio ospite è arrivato è entrato nella struttura il pacchetto che abbiamo in present in app durano 12 mesi dal momento che usiamo la prima licenza quindi oggi io uso la licenza quindi invito il mio primo ospite l'intero pacchetto da oggi durerà per 12 mesi poi ovviamente l'abbiamo già accennato prima ma lo possiamo ripetere l'abbiamo la possibilità in fase di invio della chiave ospite di scegliere come far come utilizzare la nostra chiave quindi in modo temporaneo se siamo in presente di un bed and breakfast dal venerdì al sabato ricorrente se c'è ad esempio il giardiniere che ogni martedì ogni mercoledì va nello stabile a pulire il giardino one shot il postino che deve consegnare una lettera un pacco che sia oppure permanente dove in questo caso permanente vuol dire che questa licenza durerà 12 mesi e può essere utilizzata in qualsiasi giorno in qualsiasi momento il vantaggio qual è il vantaggio è che in questo caso avendo il log eventi il genitore che decide di dare la chiave ospite al proprio figlio ha la certezza che il figlio rientra a casa quando riceverà la propria notifica quindi questo ovviamente è un vantaggio e anche una cosa sicura per il genitore facciamo un altro tipo un altro esempio tipo di che cosa può succedere ecco dunque questo è un altro un altro domanda un caso tipo che può accadere ed è questo abbiamo parlato che per poter utilizzare sclac bisogna registrarsi bisogna avere un account quindi deve avere l'account installatore deve avere l'account l'amministratore deve avere l'account il nostro proprietario che cosa succede invece per l'ospite quindi l'ospite deve crearsi un account per utilizzare clac si deve crearsi un account no non deve far nulla oppure no ma deve ma deve scaricare l'app ecco allora diamo un attimo un paio di di minuti per i secondi per per rispondere però vedo che comunque il sondaggio è già quasi unanime quindi possiamo da già dare il risultato è correttamente avete risposto data la risposta c quindi no ma deve scaricare l'app quindi c'è la possibilità per l'ospite di non dover creare crearsi registrarsi ma può utilizzare esclusivamente l'app e in questo caso è anche una e abbiamo facilitato anche l'utilizzo per i per gli ospiti quindi il vantaggio qual è se abbiamo un bed and breakfast e invitiamo i nostri ospiti i nostri ospiti riceveranno l'invito premeranno il link in questo caso ci sarà soltanto un link che automaticamente abiliterà l'accesso senza dover registrare senza dover mettere nessun grassi nessun account e questo ovviamente permette di semplificare ancora di più l'utilizzo della soluzione che stiamo proponendo questa sera quindi dove andando avanti dove possiamo utilizzare slack unit lo possiamo utilizzare dove vogliamo quindi ambiente residenziale condominio e vogliamo gestire in modo smart gli accessi comuni tutte le parti comuni del nostro la nostra struttura nostro palazzo lo vogliamo gestire in modo smart oppure possiamo gestire i box auto quello che sia possono essere degli uffici possiamo avere le strutture dei co working nella città nei negozi quindi ci sono n soluzioni n possibili da utilizzo perché perché comunque noi diamo in questo relevo di interfaccia con un contatto pulito da quel momento in poi potete collegare quello che più è via grada in questo momento via grada bene ora vediamo un paio di notizie un po più commerciali quindi perché dobbiamo consigliare clac ok clac abbiamo detto che una bellissima soluzione dà la possibilità di aprire col telefono la nostra porta ingresso del nostro stabile ma quali sono i vantaggi beh quali sono i vantaggi per l'installatore sono che è una soluzione innovativa semplice e affidabile quindi perché questo perché ovviamente io posso prendere il mio dispositivo possa andare in questo tipo di impianto già esistente e lo posso proporre quindi adattabile ad ogni esigenza quindi noi oggi parliamo di serratura elettrica di cancelli di garage quello che sia ma possiamo usarlo anche per il condizionamento per quello che vogliamo è perfettamente compatibile con tutti i sistemi citofonici e video citofonici e per chi utilizza il tuo voice al vantaggio che non deve neanche prevedere un alimentazione supplementare ma ovviamente ed è una cosa importante per l'installatore consente facili guadagni riprendendo le chiavi proprietario e su questo punto a breve andremo ad approfondire la tematica i vantaggi invece per il proprietario semplicità di utilizzo io dal mio telefono faccio tutto la possibilità di invitare gli ospiti senza dover aspettare che arrivi l'ospite per dare la chiave meccanica la possibilità di avere i log eventi dei miei ospiti ma soprattutto la riduzione dei costi in caso di prete di chiavi ad esempio siamo in condominio il signor rossi perde le chiavi della porta d'ingresso di questo palazzo cosa succede bisogna chiamare l'amministratore bisogna dire ho perso le chiavi ok allora bisogna rifare le copie ma attenzione bisogna per sicurezza cambiare anche il nottolino costi che lievitano in questo caso invece se il signor rossi dovesse perdere la il telefono non c'è nessun problema il signor rossi chiama l'amministratore e l'amministratore toglie le credenziali di accesso a quel telefono e quindi a questo punto siamo di nuovo tornati in condizioni di sicurezza e questo è un punto molto molto importante per la sicurezza nel nostro condominio i vantaggi altri vantaggi per l'installatore quindi parliamo degli installatori quindi abbiamo detto facili guadagni perché perché il vero business della soluzione sclac non è quella di proporre il dispositivo hardware il relè ma è quello di vendere le chiavi proprietario quindi l'installatore che si battezza amministratore del dispositivo può decidere lui gestisce lui gli inviti ai vari proprietari e può guadagnare dei soldi con un semplice click infatti proprio per avvallare questa tesi abbiamo creato dei pacchetti di cente chiavi proprietario esclusivi per l'installatore quindi abbiamo detto che la chiave proprietario può essere acquistata in app come anche le chiavi installatori ma i pacchetti chiavi proprietario vengono soltanto acquistati dagli installatori dai grossisti e chiaramente usufruiscono di condizioni economiche vantaggiose che ovviamente vi permetteranno di guadagnare oltre all'installazione anche sulla rivendita delle chiavi quindi qual è il consiglio che possiamo dare chiaramente l'installatore se c'è una riunione condominiale può gestire può definire un piano chiavi quindi prima di acquistare tutto quello che deve acquistare può andare in assemblea condominiale e di chiedere chi dei condomini vuole usufruire del servizio smart lock quindi si crea un piano chiavi si definiscono il numero di chiavi da acquistare e a questo punto l'installatore in fase di ventilazione inserisce già la card con il numero di chiavi adeguate per poter gestire l'esigenza oppure la seconda soluzione l'installatore promuove in modo autonomo la la soluzione quindi può a un certo punto decidere per il proprio cliente dire se non ancora convinto di dire ok fai una prova di tre mesi tutti questi mi chiami se ti piace il servizio in automatico io ti ti abito il servizio per i dieci anni e poi mi pagherai la chiave quindi in questo caso abbiamo la piena libertà chiaramente la soluzione migliore è quella di sapere a priori quanti adireranno al servizio una volta fatto questo si mette nel preventivo la card giusta e si va appunto io vi ringrazio per l'attenzione grazie e buona serata